Oggi siamo da Play Music Store a Roma, oggi andiamo a provare un po' di rullantini, chiederò a Lorenzo che è qui dentro di farmene provare un po', gli chiederò un po' di consigli e soprattutto vi farò ascoltare la verità sui rullanti, dopo vi spiegherò bene il perché. Adesso entriamo e andiamo a chiedere a Lorenzo. Un stadio opposto e accidenti il bentornado! Ciao Lore, come andiamo? Bene bene, tutto bene, tu? Tutto bene, tutto bene. Ottimo, siamo qua. Allora, oggi ti devo chiedere un po' di cose. Tutto quello che vuoi. Riguardo rullanti che li vedo già lì dietro, vorrei provare dei rullanti di fascia economico-medio economico che vadano bene un po' in generale, io suono rock principalmente, ma che vadano bene un po' in generale, un po' versatilini. Quindi, ce l'hai? Ce l'ho. Ok, andiamo, fammi vedere tutto quanto. Qui direi che rullanti ce ne sono abbastanza. Allora, io inizierei, mi hai detto, suoni rock, vuoi qualcosa di versatile? Sì. Ci manteniamo su una fascia di prezzo... Ma guarda, ti direi non sopra i 280-200 euro. Ok. Ho dei rullanti perfetti, sia per chi vuole iniziare, sia da usare come ottimi muletti. Ok. Ok? Vai. Partirei proprio da Stage Custom di Yamaha. Te lo faccio provare... Esattamente. Questo qua. Questo. Ok, perfetto. Quindi, lo prendiamo e... Let's go! Incominciamo a provare questo qua. Poi per gli altri, vediamo. Vediamo come si evolve. Vai. L'ho rotto. Via. Ok. Eccoci qua. Allora, incomincio spiegando il perché la verità sui rullanti. All'inizio del video gli ho detto, vediamo la verità sui rullanti, sentiamo la verità sui rullanti, perché oggi non ci sono microfoni, ma l'unico microfono che riprende questo rullante in generale, comunque Cassa, Charleston e rullante, è il cellulare. Quindi, prendiamo dal cellulare in modo tale da farvi sentire come suona questo rullante qui dentro. Nudo e crudo. Nudo e crudo, proprio come lo sentiamo noi, lo sentite anche voi. Quindi, allora, questo qua mi hai detto che è un rullante in legno. Yes, sono sei strati di betulla. Di betulla, ok. Quindi me lo aspetto. Ottimo per i trasloghi. Esatto. Quindi me lo aspetto abbastanza secco, comunque come rullante, e bello versatile, effettivamente, come ti chiedevo. Quindi, cominciamo a provarlo così com'è. Ok, allora, mi piace per due cose, in realtà. Numero uno, perché ha delle armoniche, comunque, volendo poi si possono stoppare, eccetera, ma ha delle armoniche che mi piacciono. Mi piacciono i rullanti che hanno quelle armoniche che si sentono, ma che non danno fastidio. Sì, ovvero, magari sono queste cose qua. E seconda cosa, comunque, mi sembra un rullante versatile, ma con una sua personalità. Assolutamente sì, ed è, secondo me, poi lo spirito proprio che ha questo tipo di batteria. Proprio il kit intero di Stage Custom è proprio un, se vogliamo, un economico, perché quello che costa e quello che offre è decisamente indietro il prezzo rispetto alla qualità ed è esattamente l'essenza che ha questo kit qua. Quindi, siamo totalmente d'accordo. Veramente, è veramente molto bello. Tra l'altro, questo è un rosso, poi ci sono ovviamente tutte le varie finiture possibili di Stage Custom. Magari, ecco, la cosa che mi è piaciuta anche molto è che era già comunque accordato. Poi l'accordatura è una cosa abbastanza soggettiva. Però, vieni qua e dici, ok, me lo trovo già accordato, non che devo prendere, smanettare, eccetera. Adesso si smanetterò un po' per vedere come si comporta con accordature diverse. Però, figata la cosa che vieni, è rullante, è già pronto, diciamo, per essere provato. I primi smanettoni siamo proprio noi. Esatto, esatto. Una volta scartati, insomma. Non riuscite a dire, ok, no, aspetta, mettiamolo a posto in modo tale che... Quindi, perfetto. Magari, provo a tirarlo un pochettino su, così vediamo come si comporta. Quando provo i rullanti, in generale, a me piace tirarlo senza farmi troppi problemi, per vedere anche come si comporta come accordature e come velocità di accordatura. Quindi, di solito gli do un giro, mezzo giro di chiavetta sopra e sotto, e vediamo come si comporta. Mi raccomando, quando lo tirate, poi tirate anche un filo alla cordiera, perché sennò rimane un po' molletta, però vediamo un po' come si comporta. Vedi perché le perdo le chiavette? Alla fine le chiavette fanno due cose, accordano e si perdono. E si perdono, esatto, esatto, esatto. Molto sensibile, tra l'altro, come... Come rullante mi piace, tra l'altro, anche voi, fateci sapere cosa ne pensate e come vi sembra questo rullante, nudo e crudo, senza nessuna tipologia di microfono. Quindi, sicuramente molto bello, veramente bello secco e utilizzabile dal rock al funk. Secondo me, perché nel momento in cui lo tiri, bel rullante. Mi hai detto, però, che ce n'è un altro simile. Assolutamente sì. Quindi, torniamo di là e cambiamo. Let's go. Ok, molto bene. Allora, questo rullante qua, devo dire, molto bello. Ottimo. Vai tu, dimmi direttamente il secondo tra tutti questi rullanti che ci sono, che ce n'è un bel po'. Dimmi tu. Beh, io ti farei andare sull'alternativa sempre di Stage Custom di Yamaha, ma in questo caso in acciaio. Ok, quindi questo qui. Yes. Uguale, identico come misure, come cose, ma in acciaio anziché in legno. Yes. Ok, proviamo. La sua. Torniamo anche quello e torniamo di là. Pronti. Eccoci di nuovo in questa postazione con un rullante uguale ma diverso. Oh yes, assolutamente sì. Stessa famiglia, sempre Yamaha, sempre Stage Custom. Questa volta, invece che il legno, c'è l'acciaio. Ok. Quindi, differenze principali? Beh, direi che la versatilità rimane anche in questo caso. C'è un suono un pochino più asciutto. Rimane una dinamica un pochino, se vogliamo, più schiacciata. Diciamo che vengono su anche le parti un pochettino più giù. Ok. Poi provandolo chiaramente sarà tutto più... Certo. Si capirà meglio. Più chiaro. Secondo me è più predisposto per il live. Ok. È una cosa che vai, microfoni, pochi fronzoli, è quello. Il suono è bello asciutto. Ok, ok, ok. Molto semplice come gestione. Facciamo come prima. Lo provo com'è? Già un po' cordato e poi provo a tirarlo su. Yes. Siamo comunque un po' più giù di pitch, mi sembra, in generale. Decisamente. Yes, ok. Rimane comunque quella cosa che aveva già l'altro in legno, del, ha le armoniche, ma sono belle. Bene, gradevoli. Sì, perché appunto questa cosa qua, però ha una sua caratteristica, dice qualcosa e perché, io sono sempre per rullanti versatili va bene, ma rullante versatile che non ha poi niente da dire, lascia un po' il tempo che trova, secondo me. Quindi è più importante avere un rullante che ti fa suonare in un certo modo, che ti fa dire qualcosa alla batteria. Un'anima. Esatto, esatto, esatto. Perché poi, come sempre, strumento più batterista insieme fanno il suono, no? Assolutamente. Invece batterista con strumento che è lì, flat, piatto, non fa il suono al 100%, però molto bello, molto sensibile. Proviamo, la chiavetta è qui, non l'abbiamo persa questa volta. Proviamo a tirare su, facciamo solita roba, mezzo giro come l'altro, identico, andiamo a tirare un pochettino la cordiera e poi vediamo come si comporta. Chissà se le ho tirate tutte le viti, adesso stavo parlando, quindi non lo so, ma vabbè, arriviamo. Sembra subito un po' più vintage, vero? Sì, però è figo e soprattutto sui rullanti comunque di questa fascia di prezzo non te l'aspetti. Assolutamente no. Sai che la cordiera la lascio così? Mamma mia. 57 davanti e il piatto è pronto. Che legna! Ha una legna impressionante questo rullante. legna è una cosa che si dice anche qua a Roma? Dovrebbe... È una mina... La capiscono anche secondo me in Spagna, in Francia. Ok, perfetto. Lo fai legna. C'è nel vocabolario proprio. Però, bello, molto bello, veramente un attacco impressionante che però non è di quegli attacchi che dici che ti entra nelle orecchie. Cioè, c'è tanto attacco ma rimane lì. Sembra un po' compresso di suo. Quindi figata come sensibilità. Perfetta, anche fuori, diciamo, dal centro. Sono due rullanti uguali ma completamente diversi. Assolutamente sì. Uno un po' più caldo, ovviamente legno, e questo qua non è tanto freddo però come i metalli di solito. Questo tra i due, per questione personale, mi è piaciuto di più. Ma, appunto, cosa completamente soggettiva, qui sotto nei commenti fate sapere quale è piaciuto di più a voi. Ma, dato che prima comunque mi hai dato questo rullante, accordato medio-basso, eccetera, non posso non farti una richiesta. Quindi, adesso ci alziamo e te la faccio. Andiamo. Ok, allora, come ti dicevo adesso, richiesta diversa. Ok. A me piacciono i panettoni come rullante. Accidenti, siamo in due. Ok, perfetto, ottimo. Se volessi fare un panettone con un rullante, comunque sempre di fascia non troppo elevata, stando sempre più o meno sullo stesso prezzo. Ok. Vai, ci squinzaglio così. Ho anche questo. Hai anche questo. Ho anche questo. Allora, andrei in questo caso in Casa Tama. Ok, quindi cambiamo. E ti farei provare questo bellissimo 6,5 Woodworks. Ok, un pochettino più alto. Yes. Con questo strano ma bello rivestimento in legno natural, con i cerchi. Che legno è questo? Questo è 8 strati pioppo. Ok, ottimo. Andiamo. Sono pronto per il panettone. Yes. Andiamo di panettone. Eccoci qua. Pronti? Pronti via. Allora, in questo caso è accordato standard, quindi il panettone è da fare. Ok, certo. Ci mancherebbe. Da impastare. Sì, sì, sì. Ok, quindi, vabbè, a questo punto io direi facciamo il contrario di prima. Quindi lo proviamo com'è e poi pian pianino andiamo giù. Poi vediamo anche se andrà su. Cioè, capiamo un attimo. Allora. Ok, 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 ok. Allora, questo, forse meno armoniche dello stage custom un po' più profondino, quindi si sente soprattutto sulle ghost perché comunque siamo belli giù, poi quando gli fai il rimshot sopra spinge anche questo qua. Allora, a sto punto, facciamo il panettone, anche in questo caso proviamo a andare giù, non a caso, ma quasi. Tiriamo giù pure di una, un giro di chiavetta completo ogni vite e vediamo cosa succede. Comunque parte tutto. magari potrei tirare ancora un pochettino la cordiera, però in realtà a me il panettone così a me comunque la pelle è, cioè un timpano in confronto è durissimo, però mi piace, poi quando io vado a fare i panettoni di solito sono proprio tanto giù, la via di mezzo non mi fa impazzire, però in realtà secondo me come panettone come panettone ci sta anche perché in realtà poi cambiandogli la pelle sopra, secondo me mettendogli una pelle anche banalmente un ambassador che potrebbe essere una pelle doppio strato di remo ad esempio potrebbe essere secondo me bomba. Quindi figo, panettone trovato, adesso facciamo al contrario perché voglio provare su questo rullante come va al contrario, quindi ci metto un attimino ma faccio il più in fretta possibile. comunque suonabilità diversa, completamente diversa, faccio un po' più fatica devo dire a suonarlo, non so se sia la bacchetta con la pelle, se sia il legno con la pelle, non lo so, dovrei capire, ma però anche così funziona, quindi questo qua secondo me versatilità, molta, meno personalità rispetto agli stage custom, quindi se devo dire per quanto mi riguarda lo stage custom in metallo, bomba pazzesca, secondo posto forse è sempre lo stage custom e terzo posto questo, però tre ottimi rullanti ha comunque un prezzo che sta ben al di sotto se non sbaglio in questo momento dei 200 euro, assolutamente, quindi se penso a me quando suonava la batteria da due anni trovare dei rullanti che suonavano così era tosta a questo prezzo, quindi ottimo, beh, grazie mille, grazie mille veramente, fate sapere nei commenti quale vi è piaciuto di più, se vi è piaciuto a questa cosa di sentire appunto i rullanti nudi e crudi senza microfoni, senza nulla, che dire, grazie mille Lorenzo per avermi aiutato, grazie mille a Play Music Store per avermi ospitato e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!